Olly Constance è dentro Campurgioi è dentro e allora ci sia si aprono le gabbie partite le cavalle del premio SGA femmine asta selezionata 2024 vediamo le prime mosse subito Brown Lady dall'esterno prova a far partenza e mettersi in cima alla competizione Olly Constance le contende la testa poi lascia fare alla iniziale leader e ne viene fuori un parziale abbastanza interessante questa prima fase di gara in terza posizione c'è la portoghese in quarta Nobile del Colle che precede Moraglia e Campurgioi che chiude il gruppo delle partecipanti metà curva affrontata sempre nel medesimo ordine posizioni che adesso si sono cristallizzate sempre in vantaggio c'è Brown Lady nei confronti della portoghese poi Olly Constance che sempre veleggia all'interno precedere Moraglia Nobile del Colle e Campurgioi siamo in retta d'arrivo si comincia ad andare più velocemente Brown Lady la prima a essere sollecitata con la portoghese che si getta all'inseguimento Olly Constance che aspetta attende gli eventi insieme alla stessa Moraglia che in quarta corsia Nobile del Colle attende gli eventi a sua volta alle spalle dei primi prendendo la schiena anche di Olly Constance quando siamo a 400 dal traguardo Brown Lady sta ripartendo sotto i serrate delle rivali adesso si mette sulle gambe anche Campurgioi dalla centro della pista con Brown Lady che per ora ha debellato tutte le istanze delle altre con Campurgioi che si è messa definitivamente sulle gambe Campurgioi che si lancia all'inseguimento di Brown Lady che è ancora davanti Brown Lady di dentro Campurgioi di fuori Brown Lady e Campurgioi Brown Lady forse Dobbiamo rivedere lo stretto per essere certi è possibile che Brown Lady sia riuscita a tenere qualcosa su Campurgioi ma chiaramente è necessario avere una visione più stretta e lenta per essere certi della impressione qui dal campo Campurgioi sicuramente all'inerzia dalla sua Brown Lady di dentro che tiene botta e qui è molto più stretta di quanto non si creda non è solo una questione dei tempi di galoppo perché i due le due hanno gli stessi identici tempi di galoppo con la testa alta qui sul palo il frame esatto è questo e quindi si va inevitabilmente dal giudice d'arrivo Dario Di Tocco da una parte Carlo Fiocchi dall'altra di sicuro c'è che al terzo posto è arrivata Oli Constance qualora fosse vicitrice Brown Lady la quota sarebbe di 5,50 14 invece la quota di Campurgioi qui davanti è passata Campurgioi dopo ma sul palo è possibile che Brown Lady abbia mantenuto qualcosa ovviamente è un punto di vista del tutto personale non siamo in asse con il traguardo bisogna attendere i giudici d'arrivo da Capannelle per la quinta è tutto Grazie per la visione! Grazie per la visione!